Siamo tutti qui, non c'è un drago più su un pettico Ok ragazzi siamo arrivati, guardate, guardate il campanello Mettemi un po' per sicurezza che poi appena si apre lui Ok ragazzi, non c'era, cavoli, non c'era Scusate che lullo che ho fatto è proprio una femmina Però Geremia, sto qui, mi ha spaventato Senti tranquilli, scherzi, mi ha spaventato e quindi mi sono No, non è vero, sei mai un ruolo, mi sono spaventato Chi è? Perché tu? Sì, ma quando stiamo andando a vedere da nonno No, non dovete correre La parola dei zompi Oh Oh Mi fate cosa è una foto Di più c'è ragazzi C'è l'unica, l'unica persona Federica tra 3 ragazzi tra 3 secondi saremo nella porta di federico 3 2 1 ok ragazzi questa è la porta di io ho il terrore delle api da quando il mondo mi ha morsa ragazzi è un segreto ascoltatemi dammelo no è un segreto io te non lo scherzo nell'appi ragazzi secondo che non c'è nessuno ho visto su minecraft un mondo così a caso che non l'ho creato capito ve lo giuro l'hai mostrato l'intera casa adesso entreremo è vero che devo fare il tour della casa no ragazzi lo farò la farò come speciale 40 iscritti ci vediamo sul mondo ok ragazzi il nome è senza no ma perché all'inizio non c'era proprio un nome c'è scritto il nuovo mondo poi ho cambiato senza nome comunque volevo dirvi no è quando l'ho creato scusa perché non ti ho recato a minecraft per telefono quando l'ho creato con gerenia c'era prima che cos'è c'è una ceste nelle torce tipo la cassa bonus di minecraft come per un libro libro 1 posso scrivere per io voglio solo no 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 aspetta che c'è scritto scusami sei morto b senza nome bye senza nome vuoi davvero sapere chi sono cerca gli altri libri cosa pure potete andare avanti ci sono altri no niente no andiamo a filmare allora titolo del libro ma che cavolo ne so io attenzione dopo aver filmato il libro non potrei più modificarlo ma che cavolo giovele eh firma giovele firma e chiudi hai firmato ciao è il tuo nome sì ciò che cerca gli altri libri no sto buttando il libro che anche no teniamolo ma perché ho trovato un accesso con si bagga come me devi uscire rientrare ma perché non diventa il suo survival guarda vedi anzi te l'ho messo a te vediamo se c'è nessuno aspetta le torce le prendo prima cerca gli altri libri come te lo devo dire aspetta in francese francese se mi fai buttare la roba che ho la spezza francese mi metto mantieni il ventale così magari se muoio il libro non vale così il libro ce li ho non puoi allora si faccio che posso no mantieni il vento ah è già attivo all right mi prendo le torce per sicuro ok prendiamo un po' di legna che da praticamente non ho niente raga il libro è sparito era qua forse non sto dentro la casa controlla forse è sparito forse perché non sono andato a cercare gli altri libri te l'ho detto io in francese in francese francese buona stupida come te come te smettila come te è il mio video non è il tuo non è il mio video non è il tuo questo non lo pubblichi vittimi invece ah ah gelemia smettila gelemia smettila gelemia smettila ah 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 aiut aiut che è successo ma dove spavano se muoio ma voglio non sapere scusate però voglio vedere se dove spavano se muoio no non l'ho messa io boh perché dici bugie che cavolo perché ti ricresce la vita perché se muoio voglio vedere dove spavano no no ma cioè ma io voglio vedere dove cavolo spavano perché cioè praticamente sarebbe una cosa ma ma alun mio dio c'è vero che non lo sei stato tu ragazzi non l'ha fatto lui davvero? ma quella è una croce? forse hai capito chi è? è erobrine troce del re nulla ragazzi il video su quale è qua ciao e add ok ragazzi ho trovato una cesta qua vediamo se riesco da si praticamente questa è la croce che ho un po' rovinato per dire che adesso è tutta rovinata però ho trovato il secondo libro so già chi è ho già capito solo una persona po' ma perché vai creativo vai creativo cavolo ok l'ho preso libro 2 grande ragazzi 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 vedo vabbè io ho già capito chi è però comunque leggiamolo bravo ho trovato il secondo indizio adesso ti dico chi sono veramente vai erobrine contento? terzo indizio triangolo no 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 no